Vuoi comprare un frullatore, una pisa, un salvatore, una stanza mobiliata, una patata, un rasoio con l'antenna e il cappello con la penna, un cappotto di pelliccia o una salciccia, un profumo alla verbena, una maglia in pura lena, pagolini per bambini e i palloncini. Gra, 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 grandi magazzini, per grandi e per vicini, prendi al volo l'occasione, porta a casa l'affanone, grandi magazzini, per grandi e per vicini, soldi e saldi regalati, con i prezzi già scontati, già. Gra, 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 grazie al buono del fustone potrai vincere un milione, vino rosso in damigiana e la banana, l'orologio per il gatto, la camicia per un matto, una spider favolosa o una gazzosa. Tutti quanti stanno uscendo e bertendo con prudentà, ha fatto ora a chi l'ha in testo, e prendi il resto. Gra, 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 grandi magazzini, per grandi e per vicini, prendi al volo l'occasione, porta a casa l'affanone, grandi magazzini, per grandi e per vicini, soldi e saldi regalati, con i prezzi già scontati, già. Gra, 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 gra.